Video accessibile progettato per consentirne la fruizione a persone cieche e sorde. Basato sulle opere Stati d'animo versione prima di Umberto Boccioni, conservate presso il Museo del Novecento di Milano. Controsenso. L'amaro rumore di un addio. Gli addi. Strida di ferraglia si mischiano brusi e confusi, passi veloci, lunghi, disattenti. Riflessi freddi attraversano fumi densi, agcarezzano una coppia calda, sicura, nel veloce e indefinito fluire dello spazio e del tempo. È un addio ansioso che sopravvive in freddi tremori, in brevidi nudi. Quelli che vanno Corono veloci e fuggenti ruvide case agresti di argilla. Sfuccono la retina. Scappa il treno. Galoppa fulminio in un tornado di schegge. Impreca rottami d'acciaio. Si perdono nei riflessi delle case volti speranzosi. Contratti di timore. Il passato permane forte, contorto, nel presente in corso. Quelli che restano Immobili, in quell'aria rarefatta e pallida, ecco gli uomini che restano. Torbidi, solidi, silenziosi. Soffocano in acque salmastre. Paludi inconsistenti. Cadono pesanti. Vinti. Dalla fine. Progetto didattico realizzato in collaborazione con Rai Pubblica Utilità. Grazie. 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 Grazie.